Buongiorno, amore mio. Cos'è? La colazione. Non mi fai mai fare i colazioni a letto? È vero, però oggi sì, perché oggi è un giorno molto speciale. Perché speciale? Perché stavo pensando a Roma, perché stanotte ho sognato Roma e... e perché in fondo Roma è la città più bella del mondo, non lo credi anche tu? A me piace più qua. Qui ho trovato due amici, mamma, due. Beh, Ramiro, se ti ricordi anche a Roma hai i tuoi vecchi amichetti e poi... Cosa cerchi di dirmi? Ti sto dicendo che ho preso la decisione di tornare a Roma. Ma me l'avevi promesso, mamma! Lo so, Ramiro, te l'avevo promesso, avevo detto che saremmo rimaste qui, ma se la vita cambia... Mi hai mentito, mamma! Aspetta, Ramiro, aspetta! Lasciami uscire! Ramiro, ascoltami! Aspetta, aspetta, aspetta! Parliamo dopo! Aspetta, aspetta! Cosa c'è? Ora conosco il tuo segreto, Amelie. Allora, verbo irregolare, apparire. Io apparisco, apparissiamo? No, no, Roberta, io appaio, tu appari, lo sai, l'abbiamo studiato. Ho il cervello a pezzi, Flor, basta, non ci riesco. Bene, facciamo una cosa, ci sediamo qua e ti prendi un caffè latte, così ti dirò... No, no, è come se non bastasse, ho voglia di andare in bagno ogni due minuti. È solo perché sei molto nervosa. Facciamo una cosa, entra qua, vai in bagno e poi facciamo finta di niente, ok? Andiamo a casa, Flor, tanto già lo so che prendo uno. No, Roberta, no, assolutamente, io sono andata, ho rischiato come una kamikaze tedesca, ti ho fatto dare un'altra opportunità dalla Domenech e tu farai l'esame e affronterai la situazione e prenderai dieci, o no? Sì, benissimo, così, com'è giusto che sia, ok? Qua, da Flor? Sbrigati, non voglio incontrare nessuno, dai. Che cosa vuoi che faccia, non vedi che ho i tacchi a spillo, non riesco a correre... Buongiorno, non così mattiniere, dove è andata? Togliti da davanti a me, stupida. E lasciaci in pace. Un momento, siete spaventati perché salterà fuori tutta la verità? Chiudi quella bocca, brutto cartonino. Voi non andate da nessuna parte, per una volta tanto rimarrete qua e dovrete affrontare e risolvere tutto il male che avete fatto. Vado io, Federico, tu continua a leggere che vado io. Va bene, grazie. Dolcezza, mi sei mancato tanto. Anche tu. Ma non voglio che ci vedano, vieni, andiamo, andiamo. Andiamo a studiare, a studiare. Noi andiamo a studiare, a studiare, a studiare di solito. Salve, buongiorno. A studiare di sopra, sì, andiamo. No, 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 un attimo, un momento, per favore. Volevo ringraziarla perché per merito suo si è rimesso a studiare. Volevo chiederle come sta andando, come va, va bene? Ah, insuperabile. Sì. Bene. Adoro studiare, lo adoro, ho scoperto... Lo adoro. Ora andiamo a studiare un po' di anatomia, vero? Sì. Sì, perché sono molto indietro in anatomia, molto indietro, sì. Sì? Sì, sì. Però, beh, ecco, mi perdoni. Scusi, una cosa fra fratelli. Non vorrei che tralasciassi i tuoi studi per quella ragazzina. Come? Tranquillo. Te lo spiego io, tra un libro e l'altro. Vieni, vieni. Non ho capito, ma... Non ho capito, ma... Tu come stai? Così, così. Prego, si sieda. Ti ringrazio. Federico... Vuole bere qualcosa? No, no, non bevo niente, grazie. Ho qui i risultati delle analisi. I risultati delle analisi. Li lascio qui, grazie. Per favore, mi dica la verità. Vedi... Delfina è malata. Non ho buone notizie. Delfina sta molto male. Purtroppo ha una rara malattia che è terminale. E le resta poco tempo da vivere. Pobre lo rico che tanto tiene che non sape lo che non tiene. Le faltan sueños, le faltan ganas. Le falta il tempo, le falta il alma. Le sobra il miedo di perder altro. Le sobra il filo, le sobra la panza. Le falta il tempo della esperanza. Le falta il aire della mattina. Le falta il vento, sobra i sui cari. Le sobra il tono e non hanno niente. Non ho capito, non ho capito. Non ho capito, non ho capito.